Tir schiaccia auto contro il quadrail, un incidente che poteva trasformarsi in tragedia, è avvenuto sulla bretella Lucca Viareggio, miracolosamente quasi illesa la conducente del veicolo. Sequestrati i giochi non a norma, le fiamme gialle del comando di Massa Carrara hanno effettuato un sequestro di giocattoli sprovvisti di marchio CE ad un ambulante del mercato di Carrara. 250 stelle di Natale per l'ospedale, la Confederazione Agricoltori della Versilia ha donato le piante al personale socio-sanitario di ospedale e zona distretto. Calcio, pareggi spumeggianti in Serie D, oltre al 2-2 del Tau contro la Pianese, il 4-4 tra Grosseto e Givi, 1-1 al 93esimo per il Silavezza, mentre il Forte impatta 0-0 a Sant'Angelo Lodigiano. E adesso la sosta. Ben trovati a questa edizione TG Noi Versilia, dunque apertura dedicata alla cronaca, questo incidente che si poteva rivelare fatale avvenuto sulla bretella Lucca Viareggio, ma fortunatamente senza conseguenze gravissime. Intorno alle 12.30 sull'autostrada bretella in direzione ovest sul viadotto Massarosa-Buzzano, un tir ha schiacciato un'auto contro il guardrail. L'incidente è stato considerato un codice rosso per dinamica, ma la conducente dell'auto è stata trasportata in pronto soccorso Versilia in buone condizioni. In un primo momento era stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso Pegaso, ma i sanitari del 118, una volta giunti sul posto, hanno disposto all'annullamento del volo. Per liberare l'autostrada dai due mezzi coinvolti è stato necessario il supporto dei vigili del fuoco, che sono intervenuti sull'autostrada con una gru. Il traffico ha subito rallentamenti moderati, dato che non è stato necessario chiudere il tratto autostradale per consentire la rimozione dei mezzi, nonostante la bretella sia sprovvista di corsia d'emergenza, con gli addetti dell'assalt che hanno provveduto a deviare le vetture su quella di sorpasso. E adesso veniamo ai dati del bollettino regionale per quanto riguarda il contagio. I nuovi contagiati sono 1.158 con un tasso di positività del 16%, i ricoveri sono 540, 22, le terapie intensive e decessi sono state 15, in provincia di Lucca i nuovi contagiati sono 138. Sequestro al mercato ambulante di Carrara di giochi non a norma, lo hanno effettuato gli uomini della Guardia di Finanza. I finanziari del Comando di Massa Carrara hanno eseguito una serie di controlli nel mercato regionale di Carrara e l'attenzione dei militari è stata catturata da alcuni giocattoli posti in vendita sulla bancarella di un venditore ambulante, che apparivano sprovvisti dei necessari requisiti di sicurezza. Da un più attento esame è emerso che tutti i prodotti esposti per la vendita erano sprovvisti della marcatura CE, oltre ad essere privi dell'istruzione in lingua italiana, nonché delle prescrizioni relative alle precauzioni d'uso, tra i quali, ad esempio, l'indicazione dell'età consigliata. Riscontrata l'irregolarità degli articoli proposti in vendita, in maggioranza rivolte ai più piccoli, i finanziari hanno proceduto al sequestro amministrativo nei confronti del venditore. Tra i giocattoli sequestrati sono stati rinvenuti anche più di cent esemplari dei pupazzi aghi-waghi, sempre più diffusi nei contenuti visualizzati da bambini sul canale YouTube. Al venditore ambulante di nazionalità straniera sono state combinate sanzioni amministrative previste dal Codice del Consumo per un ammontare superiore a 4.000 euro, con contestuale segnalazione alla Camera di Commercio. Nel corso dei lavori assembleari del 16 dicembre è stato nominato il nuovo presidente di Arpeca S.P.A. E' Mario Del Pistoia che subentra Paolo Ferretti, recentemente scomparso e compianto dall'intero distretto nautico Viareggino. Il nuovo presidente, già membro del Consiglio di Amministrazione dal 2019 ed espressione del mondo imprenditoriale di Viareggio, metterà a disposizione la sua esperienza e capacità nella guida di Arpeca per affrontare le sfide degli anni futuri. In un momento di grande trasformazione del sistema paese. Tradizionale donazione di piante di stelle di Natale effettuate dalla CIA Versilia all'ospedale e alla zona distretto. Oltre 250 piante di stelle di Natale sono state donate alla zona distretto della Versilia e all'ospedale dalla Confederazione Italiana Agricoltori. Un messaggio non solo di solidarietà e gratitudine per il lavoro svolto dagli operatori sanitari, ma anche di attenzione all'ambiente, contro lo spreco e al sostegno dell'economia locale, trattandosi di piante invendute e destinate al macero una volta concluse le festività natalizie. Sì, ormai possiamo dire che sta diventando un'abitudine, ci piace che lo diventi, è il nostro modo di essere vicino a una categoria di lavoratori che per noi è molto cara, che ha avuto dei momenti bruttissimi, sappiamo, fino a poco tempo fa e ancora oggi non sono belli e quindi vogliamo dare un segno di vicinanza a questa categoria. Dobbiamo ringraziare la CIA della Versilia e l'azienda agricola Michelucci per pensare a noi per il lavoro che quotidianamente facciamo. È un segno importante, è un segno che anche il tessuto di questa zona come sempre è molto attento e risponde. L'occasione è stata anche quella per tracciare un bilancio sull'andamento delle vendite della pianta del Natale per eccellenza. Devo dire che quest'anno è andata bene, era andata già bene anche lo scorso anno, il settore per ora sta reggendo in termini di richiesta, anche se come potete immaginare il caro delle materie prime, in particolar modo delle energie per riscaldare le serre, ha dato una bella botta al bilancio delle aziende agricole. Il presepe vivente in centro a Camaiore ha anticipato in qualche maniera il percorso dei presepi che si aprirà venerdì con il presepe di Marignana. Un tuffo nella betelemme della natività è quello vissuto nel centro di Camaiore che si è animato delle botteghe degli antichi mestieri in occasione della seconda edizione del presepe vivente organizzato da Rione Montebello in collaborazione con il centro commerciale naturale e l'amministrazione comunale. Circa 50 figuranti che hanno dato vita a 15 postazioni sparse nelle vie e nelle piazze del centro con i negozi degli artigiani e la scena della natività che è stata allestita nella chiesa di Santa Maria Assunta. Lungo le vie del centro sono state organizzate anche le sfilate rievocative con i centurioni romani e con l'arrivo dei remmagi. Un insieme di eventi per far vivere la nostra città con la collaborazione fra l'amministrazione comunale e i commercianti di Camaiore che devo dire si sono dimostrate all'altezza della situazione. Sono riusciti a far vivere la città di Camaiore con tanto entusiasmo. Il classico esempio è oggi con la rappresentazione del presepe, i vecchi mistieri, la capannella, un momento di vita all'interno di Camaiore per far sentire una presenza commerciale, per far sentire una città che è vivace, vive intorno alla gente, che ospita con grande felicità i nostri abitanti e i concittadini di Camaiore. Questa era la rappresentazione che ha dato il via al denso programma del percorso dei presepe a Camaiore che verrà inaugurato venerdì 23 con lo storico presepe di Marignana per poi abbracciare con 17 tappe tutto il comprensorio delle colline camaioresi e arrivare fino al lido di Camaiore e che sarà visitabile fino all'8 gennaio. Tradizionale festa per gli auguri di Natale alla Casa di Riposo Sacro Cuore nel centro a Via Reggio. Dopo due anni di sosta a causa alla pandemia, oggi all'Istituto Sacro Cuore di Via Reggio, da tutti conosciuti come Poveri Vecchi, si è festeggiato il Natale alla presenza di staff, parenti e organi di informazione. Questo periodo di festività natalizie sono tornato ad essere occasione per condividere esperienze, momenti di vita all'interno dello storico Istituto Via Reggino e nuovi propositi per l'anno nuovo. Grazie alla complicità di tutto lo staff della struttura è stato possibile regalare agli ospiti della Casa di Riposo momenti di spensieratezza, allegria, musica, grazie al maestro Bonino e all'infaticabile Alex, balli e tanto divertimento. È una festa di Natale ma è un momento anche di gioia, di divertimento per loro. L'importante è che siano insieme e che siano contenti loro, ecco, questo è il senso. Un ringraziamento va a tutta l'animazione, alle educatrici dell'Istituto che hanno gestito al meglio questo pomeriggio e che ha portato un po' di leggerezza a tutti gli anziani ospiti. Dopo due anni torniamo qui e finalmente possiamo rincontrare gli ospiti di questa casa e augurare loro un felice Natale e un buon 2023. Passiamo allo sport, la Serie D e come sono andate le partite dell'ultima di campionato. Per il campionato di Serie D, detto del bel pareggio in rimonta del tau calcio contro la capolista pianese 2-2, il Real Forte Querceta in trasferta sul campo del San D'Angelo è tornato con il pareggio di 0-0. Partita scorbutica giocata su un campo non in perfette condizioni dove i versilesi hanno saputo soffrire e non hanno rinunciato a creare occasioni importanti. Il tecnico Simone Venturi parla di un pareggio giusto con la reazione che è arrivata da parte della squadra dopo la brutta prestazione di sabato scorso. Solo panchina per il neoacquisto Rodriguez. Al buon riposo il Seravezza Pozzi con il Terra Nuova Traiana ha pareggiato 1-1 con rete ospite di Saccani all'undicesimo del secondo tempo e il pareggio in extremis di Lorenzo Benedetti è arrivato al 49esimo. La squadra di Amoroso si è vista davvero brutta riuscendo solo nel finale ad evitare una sconfitta con il solito bomber Lorenzo Benedetti, undicesimo sigillo in campionato e il capocannoniere solitario del girone E della Serie D. Il Givi Borgo, ospite del Grossetta pareggiato 4-4, si è presentato in campo con ben 7 under e ha terminato con 8. Dopo la sconfitta con il Seravezza Pozzi c'è stata questa prova di carattere dei ragazzi di Massimo Maccarone che sono andati in gol con Zini, autore di una tripletta e il gol il secondo stagionale del Baby Campani. Per i padroni di casa i gol doppietta di Gomez, Giustarini e Rotondo. Sul fronte acquisti la squadra potrà contare adesso sul difensore centrale molto esperto Leonardo Terigi, 31 anni. A proposito di acquisti, aggiunge alla Rosa un giocatore anche il Seravezza Pozzi. Grazie. 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 Grazie.